Vuoi delle maglie da calcio di questa stagione a poco prezzo? C'è chi calcio? Usa il codice promozionale GS per ottenere il 15% di sconto su ogni acquisto. Link e altre informazioni in descrizione. A presto, a presto, a presto. Nooo! Ma no, ma hai visto cosa ha fatto Mininkovic? Stava tirando i mobili, oh! Guarda! Siamo in 4, 4 contro 3. E tiri, e tiri, deve essere proprio credinato. Allora siamo in studio. 4 contro 3 e tu tiri, da 4 metri fuori dal minimo dell'aria. C'era quello che si è, guarda quello a destra? Ma no, ma da quello che ti sta vicino anche, non mi chiede. C'era il mobili a 3 metri senza l'uomo davanti. Mentre le mie? Che culo! Mamma mia! Noi non insegniamo mai su queste palle, su queste palle deviate. Mai! è vero però è stato deviato e la direzione ha scavalcato il giocatore che si è messo sulla riga di porta bello che è che ha fatto con la tinta di usalberto hai visto l'ha fatta apposta come si è come si è spostato che faccio la riserva di l'arte bello dietro arca troglia non credo credo che ci abbia salvato lei che passaggio di merda però c'è guarda questa reazione lì a forza inventato su tiro no ma non ci posso crede ma che farlo è ma non è fallo per pesce la palla e poi è rimasta lì no ha preso il palo ha preso il palo chiudiamola sta partita cazzo che credito che è stupido che è proprio stupido questo si entrava così 5 minuti alla fine dopo che è un mese che non lo fa giocare capisco il rischio che questo si fa c'è spettato però perché tra l'altro è cretino però mettere il giocatore così fresco a 5 minuti alla fine è un ruolo fondamentale capisco il rischio di far giocare di mettere uno che è fuori dalla partita che entra freddo ma te l'ho chiamato non è perché porto male perché lo so che è così in difensore così a 5 minuti alla fine non entra mai in partita è una cosa che non riesco a capire 5 minuti se hai giocare 7 minuti 8 minuti per un'ammulizione se vuoi ammunire questo qui lo vuoi ammunire questo qui no gli ha dato uno un casco da fermo esatto mamma mia scettato 10 minuti